Eccoli qua, Alessandro Masti, Massimo e Simoncini che non sono altro, siamo qui per ricordarvi che domani alle ore 10 va in onda, in diretta, su Red Toscana, l'ultima puntata di Orataria, l'ultima, l'ultima, e poi basta, io non voglio più sapere di Masti, non voglio più sapere di Simoncini, basta, basta, si tira, si tira, si tira una riga sulla trasmissione, basta, che ti batterà un rigore, che ti batterà l'umido, tutti ieri. Quindi domani, ultima puntata di Ora d'Aria, ma dal 12 giugno, torna Ora d'Aria, light, la versione estiva del nostro programma, è tutto attacchi, Ciccio. Oh, Masti, cosa importante, domani ad Ora d'Aria, in occasione dell'ultima puntata, ospiti d'onore, qui, a Red Toscana, per ora d'Aria, Irene Grandi, eccolo qui, e Lorenzo Andreaggi, eccolo qui, ospiti, qui, ad ora d'Aria. Ma davvero? Noi gli si telefonano, o magari loro ci fanno per il telefono, l'Andreaggi, la grande nonna è una signora, l'Andreaggi di subito, ce lo fa, come sentillo, e come vederlo. Molto bene. Vedrai se non va a finire così. Domani, Irene Grandi, Lorenzo Andreaggi, qui, forse l'Andreaggi, ce lo fa.